Un anno di impegni volti all'incremento della sicurezza e declinate in molte sue accezioni, come ad esempio quella percepita dai cittadini o quella fisica, ossia la protezione del territorio dei rischi, passando infine per l'accoglienza inclusiva dei migranti. È il prefetto di Arezzo Clara Vaccaro nel corso della conferenza di fine anno a tracciare un bilancio degli ultimi 12 mesi di lavoro svolto in sinergia con le forze dell'ordine. Quello che abbiamo sempre delineato come un lavoro di squadra fondamentale, quindi stabiliamo insieme le strategie politiche da mettere in atto e poi tecnicamente sul territorio le forze dell'ordine, ma non solo perché fondamentale in questi mesi è stato il lavoro anche con i sindaci nei tavoli interistituzionali di vallata che hanno raccolto per le quattro vallate tutti i sindaci, col quale abbiamo anche verificato insieme le esigenze del territorio. Tra i risultati più brillanti in termini di sicurezza, indubbiamente la diminuzione di circa il 20% dei reati predatori nell'aretino. Questo è il frutto di un lavoro ovviamente di tutto l'anno, quindi non soltanto di questi ultimi mesi, un lavoro fondamentale fatto sul territorio. È chiaro che questa è la diminuzione dei reati, è concreta, effettiva e sono i dati che lo indicano. La percezione che il cittadino ha a volte è diversa perché il concetto di percezione ed in sicurezza nasce da altri elementi e quindi abbiamo cercato anche di lavorare sul concetto di percezione. L'accoglienza inclusiva è un altro degli impegni portati avanti nel corso dell'ultimo anno. Al momento nel territorio aretino sono presenti 1249 richiedenti asilo suddivisi in 35 comuni ed ospitati in 143 strutture di prima accoglienza. Le strategie sono quelle dell'inclusione che è un fatto culturale, un fatto molto complicato di conoscenza reciproca per cui le iniziative in atto sono tantissime ma anche i corsi di legalità che stiamo facendo ai nostri ospiti migranti, anche i corsi di sicurezza, anche i corsi di sicurezza stradale, tutto ciò che consente a loro di conoscere la nostra realtà e a noi di capire un po' meglio quali sono le loro esigenze. L'armi di terrorismo ha massima attenzione anche nell'aretino come a livello nazionale e europeo? Sì, questo è un alert che è stato lanciato a livello nazionale. Quello che può preoccupare sono gli atti di emulazione che comunque possono esserci dovunque. Noi abbiamo cercato, come tutti i colleghi, come tutte le prefetture, di mettere in atto delle misure di sicurezza che consentano di continuare a poter svolgere quelle attività a concerti, mercatini, in una cornice di sicurezza che riteniamo essere sufficiente.